L'avete sbagliato, se non l'avete qua. John Rambo John Lambo Per liberare il suo amico prigioniero afghanistan si arriva con i Mujahidin e il film è dedicato ai Mujahidin afghani Mujahidin, guerrieri L'Ambore 3, John Rambo Non c'està John Rambo Non c'està John Rambo C'est l'amore mondiale Il film è un film di A, B, C Il film è un film di Giaidin Il film è un film di Giaidin Il film è un film di Giaidin Il film è dedicato a questi guerrieri afghani E quando il Giaidin Il film è dedicato a questi guerrieri afghani Un'altra cosa, quando John Rambo va a Tormel